Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, io sono Marco e io sono Domenico. Cosa vedete qui? Cosa vedete qui? Una novità per il canale? Digimon. Card game? Chi non è cresciuto con Digimon? Chi? Io no, tu. Perfetto, è uscito questo interessantissimo e secondo me bellissimo perché ho visto alcune immagini, non troppe perché come sapete a me, anzi non lo so, forse, perché se lo ricorda non piace tanto spoilerarmi, voglio gustarmi almeno la prima volta le carte così. E quindi iniziamo. Iniziamo subitissimo, allora qui ci sta il promotion pack. Con dentro sei carte. Esatto, e ho comunque due dash pack così. Con una carta ciascuna. Esatto, allora prima di togliere sharebox, ricordiamo che è in versione inglese. Esatto, perché italiano almeno per il momento non penso che ci uscirà mai. Sì, questo qua sto facendo con Dragon Ball penso che continuerà l'inglese anche su Digimon. Sì, altrettanto comunque l'importante è che vende, quindi sta a posto. Allora, Rack Dash Pack, bellissimo come vediamo, qui i grandissimi protagonisti. Allora, oh, non mi ricordo ovviamente molti perché io quando vedi Digimon, infatti vorrei fare assolutamente un rewatch, c'ero piccolissimo, ragazzino proprio. Beh sì, era quello più o meno il periodo in cui... Quindi non mi ricordo, quindi non mi ricordo diciamo proprio tutti i nomi, ecco, mi ricordo Agumon, Fatamon, 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 mi sa che ci sta. Su, non, su, non, ma anche poco, comunque andiamo. Iniziamo subito con intanto il box che, il box lo faccio dopo un primo piano, vista che è. Dashpack, dovrebbe essere come quello di Dragon Ball, quindi ho solo una carta, rovinata. Attenzione, ottivo, è brutto, bellissima, Puppetmon, sembra tipo... Che spettacolo, dietro tanta roba, non l'avevo ancora mai visto, che spettacolo. Lui ce la vediamo bene. La tua. Andiamo con l'altro. Io non lo ricordo benissimo, lo odiamo. Oddio, perché questa non è brillante come questa, è stato... La verità è diversa, vabbè, già è scurato. Gabumon! Questo sì che me lo ricordo, cavolo. Era il mio preferito. Sì. Gabumon, che poi si mega dice evolve, super dice evolve in... Non c'è scritto da qualche parte. Un modo... No, no, è stato lo stesso. Questo va, trigger, ok. Misco una carta, ecco. Non so come si gioca, ovviamente mi sto appena guardando commentando. Vabbè, è appena uscito, no? Cioè, da poco. Sì. In... Qui da noi. Sono contentissimo di aver trovato il mio Digimon preferito e andiamo... Vediamo cosa c'è in questi sei pacchi. Cioè, in questo pacco con sei carte. Non so se sono già preimpostate le carte all'interno, oppure sono diverse. Chissà se c'è anche una differenza fra il contorno delle carte, perché queste sono d'argento. Uuuuh, Agumon! Se non è il tipo Goku, lo trovi ovunque. Palese. Agumon. Binomon. Sì, questo era quello lì di quella ragazzina. Eccolo, Gabumon. La copia di Misty. Sono tutti gli starter, allora penso che siano preimpostati. Patamon. Patamon! Mi ricordo bene. Mi ricordavo cosa che c'entrava tipo patata, o metto per primo, ovviamente, Gabumon. Spettacolo. Tanta roba. Quindi queste penso che siano in teoria, non è una coincidenza assurda. Ok, vediamo. Quindi, allora, intanto mettiamo questi qui. Non ci entraremo mai. Sono molto curioso. Qua dice box... Contiene un'alternative art card più una special box. ProMotion Pack. Forse è il 24. Ah, ok, no, quello. Togliamo lì. Andiamolo a aprire. Taglia così, metti forza. Spero di trovare l'SCR qui, no? Vabbè, così subito. Se no mi sbaglio, in Giappone, forse gli trovo un pacchetto appena. No, no, sulla carta. Sì, la carta era ben tuorista, ci vedi R di rara. Ok, che vi è scolato, tanta roba. R e R. E quindi? Ah, questi sono come Dragon Ball, tra l'altro. R, S, R, S, P. Sì, dovrebbero essere così. Guarda, P, promo. Dovrebbe essere. Dovrebbe essere. Ok, adesso. 187 tipi di carte in totale. Lo apriamo. In teoria, se no mi sbaglio, Rijimon è uscito in Giappone per primo. Con serie Bt1 e Bt2 E qui sono usciti direttamente, comunque diciamo, in Europa Comunque in lingua inglese Unendo tutte e due, Bt1 e Bt2 No, scusa, tre, ecco. Guarda, da Bt1 a Bt3 Quindi tutti insieme, erano uniti. Potevano fare anche con Dragon Ball. Esatto. Uh, esce la carta Pro. Esce pure... Ah, questo, quindi. È uscito Joe. È quello che mi sta un po' più sulle palle. Però vabbè, dai, ci sta. Ma sono più di uno. Eh, dovrebbero essere tutti quanti. No, no, è uno soltanto. No, no, no. Eh, dovrebbero essere, penso che sono tutti i ragazzini. È uscito, vabbè. Allora, quindi. Vediamo gli artwork dei pacchetti. Prima degli artwork voglio aprire Special Box Promotion Pack. Allora, non starò bene. Allora, dai. Fatti rovinare. Lo devi aprire. Perfetto. Allora, mettiamo questo qui. E vediamo. Stai schiacciando le carte. Stai schiacciando le carte. Ma che, ma che, ma che, ma che? Vai. Allora. Sei carte totali. E escono due. Fai, fallo vedere. Almeno qui ce le disegnano. Allora, dovrebbe uscire Garurumon, che dovrebbe essere la mega evoluzione, la digievoluzione di Gabumon. Guerra, Garurumon, ok. Agumon, Greymon. Dai. Avvicinati così. I miei. Si vedono le carte. O questi dovrebbero essere. Beh. Vai, apri. Apri qui. Vado. Per favore. Sono bianchi queste. Mi sa che sono comuni. 5000. Che dovrebbe essere, mi sa la vita. Oddio. Uno solo? No, ma chi è sto schifo? Dai. Redramon Zero. Per favore. What? Dai. No, dai. Il protagonista. Yugi 2. Goku 2. E mettiamo, tagli, un po' di calo. Che non mi è uscito né Greymon né... Eh beh, vediamo questi pacchetti che mi sembrano uguali per adesso. Allora, artwork, vediamo. Ok, bellissimi. Questi sono i quattro artwork diversi. Sì. I quattro artwork diversi. Spettacolari. Si vedono. Sì, forse vicino lì un po'. Vabbè, vicino lì un po' alla volta. 12 carte per booster pack. Dai, troviamo queste SCR. Dai. Allora, vediamo qui, dice, 69 common, 50 uncommon, 45 rare, 20 super rare e 3 secret. Vai, facci sognà. Che è? Dammi un bel benvenuto. Così. Dammi un bel benvenuto. Oh no, dai, si è piegata la carta finale. No, ma mi sa che è una carta promozionale. Che culo. Sembra una carta promozionale. Spero che sia una carta promozionale. Sì, meno male. Che è? Mi sa che si completa. Player 2. La lista. Scritta molto in piccolo. Vabbè, mette 180 e fast. Ok, allora. Già c'è un luccicchio. Sbriluccica. Elekmon. Chissà come sono rispettati. Sukaimon. Blade of the Two. Bello, Karurumon. Tutte common. I dimension scissor. Rarizamon. Common. Kokugamon. Oh, bello. Che è? Metalethemon. Udian uncommon. Un drago. Bello, megadramon. Questa è l'emozione di Raugumon. Sì. Slash Angemon. Sibilent. Tai, speciale. Che c'è scritto? Che rarità è? È rara. È rara, bella è rarare. Oddio, secret. Che carta è? S.R. S.R. Ah, così? Magnangiemon. Bello. Che cosa è brutta. Che spettacolo. Ma non la carta, dico. Il fatto che non ci sia quella follatura S.R. che c'è su Dragon Ball. È tutta liscia. Ma è, cioè, nel senso, bello. Vabbè, materiale di Dragon Ball mi sembra ancora superiore. Sì. Però, porca miseria. Sono fatte molto molto bene. Buono. E c'è, raro, mi spiace. Bella. Le rare hanno questo rilievo in contorno. Sono molto, sono molto cari. Anzi, forse sono me le rare sono più belle di Dragon Ball queste così. Dai sì, i Dragon Ball sono semplicemente lisci. Esatto. Oh! Ero vinto, sì. Serio per il filetto finale? No. Ancora ok. E non si completa. E ti sarà quell'euro? Monodramon. Agumon Expert. Che è? Grit Tornado, Impmon, Liamon, Armadillo, Monodramon. Finire per Mon. Mi sta a finire, mi sta a far male di testa, legge sempre Mon finale. Spider Shooter. Oh, non c'è Mon. Dark Mon. Bella. Angemon, che abbiamo trovato Magna Angemon. Dark però, che c'è, senza cap. Quindi quella è rara e questa è rara. Amon, belle. Mi piacciono molto con tutto il contorno. Perfetto. Perché deve essere di rara, la voglia. Pure tutte e due rara. Ok. Quindi, in teoria, o è doppia rara. Andiamo avanti. Perché quante bustine sono? Dovrebbero essere 20 quasi, 24 bustine. Oh, mon, inizio a aprire in modo classico. È player 1? Sì, player 1. Che l'hai trovato? Che? Oblivion Bird. Okuamon. Tyranomon. Blastfire. Kabuterimon. Agumon. È veloce. Hitviper. Wergarurumon. Che stile, tanta roba. C'avevo pure di quel giocattolo. di queste quando ero bambino picco. Perché è stato l'eroso tutto. Chiaromon. Agumon raro, bellissimo. E... Raro? Cerberusmo. Ok. Tanta roba. Vediamo se si riesce a fare... Vorrei completare almeno l'uno per di questo gioco. Wizardmon. Earth Attack. Sarebbe lo tipo le magie. Guardromon. Spiral Sword. Greymon. Ecco, questa è l'evoluzione di... Sì, quella è la prima evoluzione. Tanta roba, Greymon. Super Super. Wergarurumon. C'era DJ Vomazio. Back for Revenge. Poi c'era Super. Magna Dramon. Mi sa che addirittura c'era anche Iper. Greymon Uncommon. Mi sa che c'era anche Iper di Giove. Oh, doppione. E... Ra, Raymond. Lo dice lui che è raro. Il primo doppione è trovato? Lascio di là. Dove aprire in modo classico, l'ho detto. Ora, sempre i Player 2 sono quelli più... Smashed Potatoes. Frerizamon. Che è sempre Agumon. Mi sa di sì. Ma c'è la sua mostra. Ad un certo punto ho perso il segno. È tutto che non mi guarda, infatti ho fatto un rewatch, ragazzi. Vi prometto che riguarderò per il prossimo a Copenic Digimon. Sarò più informato. Molto probabilmente. Bello, Garurumon. Con l'osso in bocca. E? Tannemon. Oh dai, sull'orare. E vai. Oh. Vistimon. Non so nemmeno se sto trovando carte allucinanti. Ma a fine che sto do tipo carte... La gente sta strappegando. Oh, solo lui li trova. Solo lui li trova. Ti ho trovato. Solo lui li trova, sto miracolo. Oh, c'è qualcosa. È una roba, sì. Che è una che mi sfugge e c'è qualcosa. Qualcuno è. È un Vilemon, se lui lo dice. Last. Oh, bello. Bello. Sembra che è sporco i lati. Eh, va grande. Zuccaimon. Ancora Zuccaimon. Agoblade. Neotismon. David Drummond. Oh. Spermone. Spermone. Allora, special primo, Agumon Raro. SR. Ok. Bella, vero? Sono molto belle tutte colorate così. Effetto. Sono curioso di vedere come sono le SPR invece. Che spettacolo. Tanto adesso ho due SR, non so nemmeno quale è pull in realtà. Forse può essere che... 3SR, non volerà. Dovrebbe essere un alternate. Però sono 3SR, quindi magari... Sono 3SR totali. Penso che... Cioè, le SR non si trovano. Passendo 3SR in uno, ma finire in un box per trovare due Secret. Solo se è fallato nella vita... Dici? Falesi. 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 Non lo so. Bello! Tirannomon raro. Che è? Ah, la magia rara. Ok, bello questo Tirannomon. Ok. Scusami, non lo apro più così. Eccolo, i preferiti di domenico. Prevete po' che ho? Bagumon. Frigimon. Ok. Guamon. Ok. Insomma, sto facendo venire pure il mal di testa a chi sta vedendo di tutte quante mon, mon. Quindi ogni tanto... Warcrowlmon. E ancora magia rara. Matricida. Lui dovrebbe essere, se non mi sbaglio, il proprietario, l'allenatore di Gabumon. Se non mi... Non vorrei dire cretinato. Non mi ricordo. Allora. Vabbè, caccioli tutti dal boss. Tu. Si. Facciamo proprio questo e poi... Oh, mio Dio. Anche. La carta nera. Grazie. La carta nera. Andromon. Piximon. Questa è una perca forse i tipi. Si, giallo, verde, figli rosso. MetalGreymon. Spettacolo. Dimension Scissor. Monodramon. Digitamon. Digitamamon. Lo con un ottio. Si, si. Mi familiarissimo lui. Si, perché? Somigliari. Ryu. O di Yu-Gi-Oh. Drago o lo Ryu. O di Pegasus. Oddio, può essere. Boltmon. Tapiromon. Ektramon. Ok. Magia rara. S.P.R. Gallantmon. S.R. Uuuuh. Però perché è diverso? Però che le trovi qui, non è diverso. Si, mi lascia un brand. S.R. Ma poi, fino ad ora mi stanno lasciando le S.R. diverse. Quindi, quante ne sono le S.R. totali? Da dove caccio? Allora, le S.R. totali 20 super rare. S.R. sarebbe sì. Mi sa di sì. Comun, rara, S.R. S.R. Eh, vabbè. Ma non c'è l'S.P.R. Non c'è l'S.P.R. Mi sembra che c'è l'alternate. C'è S.R. Comun, rara, uu. Comun, non common. E' 17 alternative. Quindi, vediamo. Pankmon. Vabbè, 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 il pool di un box. Parasword, Intmon, Oblivion Bird, Greymon, Bello. Garurumon, vicinissimi. E le Megacabuterimon. Se mi sbaglio, è sempre la mega evoluzione. La mega evoluzione di uno di loro. Non lo so. Pythamon. Uh, l'altro? T.K. Questo dovrebbe essere il più piccolo dei... Mi sembra, ma sono sei loro, no? Sì. Eh, non mi ricordo proprio niente, eh, Vigion. Che è o... Questa è la S.E.C. Oh. S.E.C. Che è la Secret? Eh, boh. Penso che sì. Metal Greymon. Oddio, non so se è la Secret. Oh, guarda qui. Ma è bellissimo. Ora c'è un foglietto S.E.C. Quanti S.E.C. ci sono? Sono tre. S.E.C. 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 Sono tre? Sì, addirittura, questo... Ho trovato la Secret? Qui non c'è proprio secca. È la Secret, ragazzi! Porca miseria, tant'erovo! Qua ce ne sono tre... Sì. Che clamorosi specchi! Che sclamorosi sono proprio... Primo Xbox! 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 SCR! Metal Greymon! No! Si chiama Sek. Secret! Da, sta scritto qua, guarda! Eh, ma ha scritto Secret Raid! Eh, secca! Vediamolo SCR! Tieniti questo e dammi il mio Dragon Ball! Ma qua vecchio! Non ho capito di no! Vedi, tutte quante i Player 1... Amo i Player 1! Che ho? Eh, ma... Ma... Bin the Temptation! Che chiamo... Gabumon! Finalmente esce poi lui normale! Macca patate! So, si chiama così! Kermon! Breakdramon! River of Power! Uuuuuh! Chi è? La rara? Sì! Uuuuh! Che è l'alternative, forse? È diverso sia per le altre... Oppure no? Venom! Venom! Bello! Mi sa che sta sul pacchetto... No, non è lui! No! Perfetto! Il Secret! Vabbè! E mancano ancora tanti pacchetti! Magari il becco quello fallato ve ne escono due! O tre! Certo! C'è qualcosa? Me ne vado! Eh, no! Kermon! Nuclear Laser! Agurumon! Vabbè! Finchè escono quelle nuove... Quelle che mi mancano! Tanta roba! Vabbè! Ti mancano tutte! Cioè! O! Cosa? Kimeramon! Kimeramon! SR! Metal Garurumon! Tanta roba! Vabbè! C'è il tuo box! Che spettacolo! Quanti pull abbiamo fatto? Quanti pull hai fatto? E... The Secret! E... Qua... Quattro SR e una SCR! Una SCR! E... AC! Sack! Se... Se è come Dragon Ball... Dovresti aver finito! No! Dovrei trovare... Dovrei trovare dentro di altre 2-3 DSR! Se è come Dragon Ball si! Se è come Dragon Ball! Eccolo! Un uovo! Diffo! Un uovo! Diffo! Diffo! Questo sta su... Quello guarda! Oh! Bello! Sta sull'artwork! Se non mi sbaglio! Quello dove ci sono più... Questo! Ok! Guarda! Sì! Sì! Oh! Demi Deddymon! Uh! Mad Dog! Mad Dog Fire! E niente! Uh! Lilliman! Lilliman! Lilli! Yeah! Eh! Attenzione! Ascolta! Ho già trovato la sigla! MetalGreymon! Tanta roba! Spettacola! Forse può essere... Dovrebbe essere la... La più alta di Greymon, no? Cioè di scorso! Come si chiama? Allora c'è MetalGreymon! V-Dramon! E... BILZEMON! Oh! Mi ero male contato questo! Questi sono i tre sigletti! O meglio a secca! E... Brava! Mi hai fatto... Guilmon! Atomic Ray! MetalGreymon! Queste carte mi so che si possono usare! Oh! C'è qualcosa! Numemon! Mi sa che quando ho messo il campo questo! Yandromon! Grondromon! Il Forestiero! L'altro secca! Guarda! Eccola! Sora! Guarda secca! Lo Cio c'è? Esse! Dicevo! Uh! Zutu o no! Questa cosa che va in campo! In qualche modo guarda! Player 1, Player 2! Ma sta messo... Ah! Forse per capire qualcosa! Che sta di fronte a te... Player 1 e tu sei 2! Ok! Mi stai mettendo un po' d'ansia! Cosa fio! Ok! C'è già una secret! Vuol dire che potrò ne altro! che vuol dire che puoi trovarmi altri un orsetto mon mi tanto basta aggiungere mon toyagumon pure che hai giocato pacchetto mon o c'è qualcosa forse pagumon checklist mon domenico manco list mon domenico mon marcomon trump trump bello bello guarda che cazzo che è il trick che stavo facendo abitato con pokemon spettacolo che è tristissima questa già l'hai trovato prima si ma è tristissima tu sei tristissimo bimbo bimbo vinova blast growomon leomon avevo colato da pigmo taikania ma è diverso però si si è diverso diverso sì no no è uguale sicuro che è uguale ma è uguale ma in realtà è diverso ma in realtà è diverso ma in realtà è diverso ma non ti faccio più aprire tu non vai che ne trovi altro ancora pure secret ok un po' è vero così esploso tutti a tutto esploso tutti a tutti gravity crash golden ripper corsetto lume lume questo è quello che trovo anche rara no ho fatto sempre così no è uguale tanto lo so dire thinkermon spider shooter cupimon rara giga blaster questo te l'ho detto che spettacolo ragazzi tanta roba tanta roba un altro manco vista oh va buona quanti ne restano? tanti no ne restano 4 6 questo 7 dov'è l'alternative? finché ce l'ho trovato golden ripper esatto gomomamon gomamon gomamon magari puoi trovare ora secret gorillamon sveglucina tutto un po' strano non lo sappiamo siremon sirena yodismon metalgraymon bellissimo e patamon patamon o sec sec non ci credo in un box due secret va bene belzemon ok pensemon va bene due secret epico epico ragazzi che ho comprato nel canale è lui io andate a recuperare le cose di dragonborn ragazzi in un box va bene magari trovo la terza trovo la terza guarda mi piace iscrivervi ragazzi intantaneamente sfondatelo questo like sfondatelo sfondatelo sfondate proprio youtube mamma mia ma che è io me lo sentivo guarda me lo sentivo ok me lo sentivo troppo il bello che io ho preso allora un box per tenerlo chiuso e l'altro per aprirlo domenico gli ho fatto scegliere quello da tenere chiuso perfetto sempre su di me ricaderà tanta roba vai miracolato meno male che guarda poi io mi rifaccio in drywall incredibile nel prossimo video se si lamenta ragazzi prendo la serra e strappo ok blast fire agumon che è sempre un'altra versione atomic ray e lecmon ogremon toy agumon toy agumon toy agumon toy agumon toy agumon toy agumon toy da giocattolo giocattolo oh ma che mi stanno volare jondramon caramon e un'altra sec ah di nuovo e l'allenatore e l'allenatore tanta roba ragazzi tanta roba ho portato già la collezione chissà domenico cosa troverà nel suo box oddio mi sa che sbrilluccica si piximon earth attack guardamon che è libero eh che è freemon putmon lo del liomon bellissimo raro dai dammi la terza sec me ne vado dovrebbe essere epico sr quindi sec praticamente non deve esserci subito se vedo che non c'è subito sta più in alto sec quello della bustina vorrebbe essere sempre quello della busta lui dai stesso altro ecco eh sì ok vediamo capomo dai salutami con ma resta no sono perso ai pacchetti vuole dai questi tre pacchetti fammi trovare qualche altra cosa no eh che cavolo c'è due sigla in box cosa pure che è charizard ok gabumon raro bellissimo guarda come innocuo poi ti mangia le gambe si si takaichi oh mio dio oh it's a biii che si che è 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 allora dark dirannamon head viper hit type viper andromon tsukai mon uterimon ogre mon atomic ray mon mon kurisari mon tentomon pantamon patamon eee niente oh kimera mon cosa c'è nell'ultimo pack comunque ne lo so troppo niente quanti SR sono uscite? quanti SR? allora per ora 1 2 questo è sec 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 1 2 3 4 queste qua no 6 forse ci può essere proviene le mie cose non si alza no non è rare è rare sono non sono rare promo sono le mettiamo insieme le promo no vabbè mettiamo insieme le promo vabbè 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 pure la doppia legalmon great tornado gorillamon sisarmon no c'è un ciclo strano figlio è davvero secco devimon biomon wargraymon secret gabumon dovrebbe essere alternative SR bello wargraymon bellissimo però bt2 quindi praticamente se non mi sbaglio sono tre secret perché tre sec perché una di ogni espansione no io ho trovato di bt1 e di bt2 manca la secret di bt3 no quindi ragazzi diciamo che sono messo abbastanza miracolato fortunato questo box miracolato ah come vediamo qui ci sono le sei carte del eh promotional la special box eh ok promotion poi qui le rare del dash pack le promo del eh sì le rare sono ok quindi non so nemmeno se quindi sono proprio di espansi riescono rare di espansione però aspetta rare particolari vabbè poi abbiamo trovato queste due promo nella bustina all'interno del del box poi le 6 sr 7 sr scuadate wargraymon diaboromon zudomon zudomon metalgarurumon spettacolo gallantmon serafimon e magnangemon lo ricorderò per sempre come prima sr e rarità speciale trovata nel box di digimon 1 e 2 sec ovvero in teoria secret rare davvero secret panca la terza che spettacolo ragazzi si inizia la grande con domenico che mi fa mi porta proprio fortuna tanta roba quindi ragazzi se il video vi è piaciuto vi piace soprattutto far sapere cosa ne pensate seguiteci anche su instagram mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella allora per ora posso dirvi che è molto interessante mi sono piaciute molto per queste carte di digimon così a primo impatto sono contento per la qualità seguiremo lo sviluppo esatto quindi continuate a seguirci se ne volete ancora e grazie ragazzi al prossimo video ciao ciao